Prendono ora posto sulla linea di partenza gli atleti della G2, che partono in questo istante per la loro gara. Andatura subito impegnativa, dettata dalla campionessa provinciale Bonzanini-Rachele, e il gruppo si allunga in fila indiana. Cala l'andatura e il gruppetto dei migliori si ricompatta. Sono rimasti solo 15 atleti a lottare per la vittoria finale. Ultimo giro e al suono della campana il piotone procede ancora compatto. Attendiamo un arrivo in volata. E dopo uno straordinario testa a testa, la vittoria va Epis Josué, della Springedi, che precede D'Amore Lorenzo, della Soprazzocco, Bonetti Nicola, della Mazzano, Vaiguini Christian, della Monte Clarense, Colombo Filippo, del Rodengo Saiano. Tra le femminucce trionfa giudicati Laura, della Monte Clarense, davanti a Bonzanini-Rachele, della Soprazzocco e Serlonghi-Marta, della Monte Clarense.